La vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolta dagli organi preposti nel 2016 in Sardegna ha interessato 7.189 aziende con una forza lavoro di 5.041 addetti. I controlli hanno consentito di riscontrare 4.213 violazioni con una percentuale del 62,14% di irregolarità. Le casse dello Stato italiano hanno incassato sanzioni penali e amministrative per 2.337.746 euro. Le violazioni accertate sono state quelle sul lavoro nero a pari a 2.030 dipendenti, sulla sicurezza 980 e 488 violazioni penali. Sono i numeri preoccupanti che emergono dallo studio della Confimprenditori Sardegna. Nella vecchia provincia di Nuoro i particolari sono state ispezionate a 987 aziende, quelle irregolari sono risultate 558. La forza lavoro di 1.266 addetti ha visto la scoperta di 283 lavoratori in nero, 52 violazioni sulla sicurezza, 44 violazioni penali. Le sanzioni riscosse dallo Stato sono pari a 294.126 euro. La percentuale riscontrata di irregolarità in provincia di Nuoro è pari al 59,42%. Percentuali più alte sono state registrate nelle province di Sassari e Olbia, con il 63,33% e Cagliari-Uristano con il 62,19%. Esiste una diffusa carenza di attenzione da parte delle imprese ispezionate, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in materia di formazione e informazione, scrive in una nota Gianfranco Seddone, direttore regionale della Confimprenditori. Le violazioni rilevate dagli ispettori del lavoro dimostrano una non adeguata attenzione da parte del datore di lavoro alle misure di prevenzione relativa alle situazioni di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Secondo il direttore Seddone è vero che la sicurezza ha un grande costo per l'impresa, che tra documentazione e fornitura di dispositivi di protezione individuale può spendere fino a 1.500 euro a dipendente, ma il non rispettare le disposizioni comporta rischi gravi per l'azienda e i cui responsabili sono punibili penalmente e soggetti a sanzioni pecuniarie.